Signori e signori, buonasera. Benvenuti al nostro spettacolo, questa sera cercheremo di trasformare la vita di uno di voi una vita ordinaria, a volte caotica, a volte noiosa, in una vita da sogno. Noi siamo personaggi venuti da lontano, personaggi venuti dalla realtà del sogno. E questa sera sono lieta di presentarvi il nostro circo, il circo dell'estero. Grazie a tutti. 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 Circo sotto le stelle è una produzione di AM Produzione e Comunicazione SAS. Per info 081 517 9702 o 392 92 75 414.